Della denuncia effettuata in prima istanza da privati cittadini, si è fatta carico l'Associazione Saline, segnalando lo scorso 23 febbraio 2024 a Forestali, Comune, Provincia e Regione, un esteso intervento di deforestazione con escavatori e camion nell'area golenale della foce del fiume Saline, nel tratto compreso tra Monte Silvano e Città Sant'Angelo. Nella risposta arrivata dopo una settimana, la Guardia Forestale di Pescara precisava che gli interventi erano di semplice manutenzione e decespugliamento. Al contrario, dal commissario straordinario per il rischio idraulico della Regione Abruzzo, l'ingegnere Vittorio Di Biase, si apprende del progetto in corso di realizzazione da 11 milioni di euro per la protezione dal rischio idraulico del tratto finale del fiume. Un progetto che prevede la realizzazione di argini di contenimento, alcuni tratti con muri di cemento sul lato urbanizzato e scarpate in terreno sul lato fluviale, altri con terrapieni su ambo i lati, con la possibilità di sfruttare i suddetti argini come piste ciclabili. Il progetto prevede inoltre una vasca di laminazione per il controllo della piena del fiume, ma a fronte di così estesi interventi, l'Associazione Saline ha sollevato alcune perplessità. Non da ultima la vicinanza ai depositi di discariche contaminate da diossina del sito di interesse regionale Saline, mentre il progetto è stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale già in data 6 ottobre 2022. Non da ultimo anche la soprintendenza fa sapere lo scorso 6 marzo 2024 di non essere stata informata dei lavori in questione. Loro propongono, dicono che faremo sopra con questi lavori anche una pista ciclabile, però è un'arcene che ha una superficie superiore, diciamo così, di questa forma trapezoide, di soli 3 metri. Evidentemente gli ingegneri idraulici non hanno idea di che cosa sia una pista ciclabile e della superficie che occorre. Devi fare un percorso ciclopedonale. Se vuoi veramente valorizzare l'industria turistica, che qui abbiamo da 4.000 posti letto, sulla costa adriatica che ha una infrastruttura, la Bike to Coast, da 130 chilometri, nella lettera che poi l'ingegnere responsabile ci ha fatto per risponderci, ci diceva che questi tagli servono soltanto per fare un rilievo fotografico aereo delle sponde attuali e quindi si fa tabula rasa per un problema banalissimo che uno risolve facendo un rilievo diretto con le persone. Però il problema è che questa è anche un'area naturalistica importantissima, fermare questi lavori distruttivi, immotivati e secondo noi ridiscutere gli investimenti che si faranno, cercando di migliorarli per quanto riguarda le opportunità turistiche e di rivedere un attimo anche l'impatto ambientale perché c'è una cassa di espansione, un bacino di espansione molto vicino ai depositi di diossina che abbiamo qui a Montesilvano che sono molto pericolosi, che forse potrebbero costituire veramente un pericolo. Quindi una discussione più aperta, aperta al territorio, pubblica e con revisione anche dei criteri progettuali.